Una tavolozza di 36 essenze, legno e colori per la più ampia libertà di scelta. Design e tecnologia che esaltano il gusto e la creatività italiana. Un processo produttivo che risparmia e rispetta l'ambiente. Così le fa solo Schuker. Schuker, la finestra che ha cambiato la finestra. Cerca il rivenditore più vicino su Schuker.it. Schuker, solo finestre in legno alluminio. Grazie.